ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo facebook un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri il gruppo che sta dalla parte del lettore in questo canale scegliamo e leggiamo per voi le migliori recensioni pubblicate sul nostro sito non si tratta sempre dell'ultima novità ma di libri che ci sono piaciuti di nicchia insoliti dimenticati a volte comunque sempre da scoprire o riscoprire oggi in occasione della festa della donna proponiamo cinque protagoniste femminili tratte da cinque diversi romanzi e mentre presentano appunto cinque personaggi completamente diversi sono anche un'occasione per scoprire nuovi tipi di lettura per nuovi tipi di lettore anche se vogliamo di lettrici iniziamo con amatissima romanzo di tony morrison premio nobel nel 1993 romanzo che appunto è da poco tornato alla alla ribalta del quale abbiamo anche già parlato la protagonista di questo romanzo è seti che conduce una vita estremamente solitaria a causa di un evento corso molti anni prima un giorno però arrivano quasi in contemporanea un vecchio compagno dei tempi della schiavitù e una ragazza senza memoria che si attacca alla donna di un affetto viscerale e ossessivo finendo per scatenare in lei e nel piccolo subborgo in cui vive una serie di reazioni sorprendenti è un romanzo ideale per riflettere e quindi lo consigliamo a quei lettori che abbiano appunto intenzione di affrontare un percorso di riflessione su certi temi il secondo libro che proponiamo e quindi la seconda delle nostre protagonisti e gli anni fulgenti di miss brody romanzo di muriel spark e che è una lettura senz'altro originale perché propone una figura di insegnante decisamente anticonformista ma molto diversa dalle figure positive a cui ci ha abituato un certo tipo di narrativa di cinema poiché miss brody la signorina brody è uno dei personaggi negativi più forti tra i quali mi sia mai capitato di leggere sicuramente quindi una scelta diversa per esplorare la psicologia umana a chi consigliare questo libro a coloro che siano pronti alla sorpresa la nostra terza eroina la nostra terza protagonista è borgana protagonista del romanzo le nebbi di avalon di marion zimmer bradley quindi siamo nel campo del fantasy il romanzo in questione è l'ennesima rivisitazione delle leggende arturiane della quale l'autrice offre una rilettura in chiave proto femminista e vagamente new age scegliendo un punto di vista inedito a narrare la storia infatti è morgana che la tradizione ci ha fatto conoscere nelle vesti di strega o fata e antagonista di re artù e merlì sicuramente consigliato agli amanti del fantasy ma anche a lettori anticonformisti che appunto non hanno non hanno problemi a affrontare una rilettura di cose note quarto suggerimento per dolores claiborne romanzo di stephen king un lungo monologo in cui la voce narrante di dono di dolores racconta la propria vita chi è dolores è una donna che ha sudato e faticato per poter far studiare i figli perché avessero un futuro dignitoso e nel legame proprio nel legame con questi figli soprattutto con con la figlia e nel desiderio di riscattarsi agli occhi di lei dolores ripone tutte le sue speranze e sceglie quindi di difendersi dall'accusa di omicidio un romanzo consigliabile agli amanti del giallo e del dell'alta tensione perché qui ce n'è veramente tanta ma anche per chi ama trovare nei libri ritratti di personaggi autentici e realistici ultimo suggerimento per un libro invece molto più di nicchia infatti la protagonista del nostro prossimo romanzo è orin protagonista delle canzoni di narayama romanzo di shichiro fukazawa fukazawa scusate sbaglio sempre nel giappone arcaico orin è una grintosa vecchietta per la quale niente al mondo è più importante dello sequio delle tradizioni e dell'armonia tra gli abitanti del povero villaggio tra i monti dove vive con la sua numerosa famiglia non si oppone quindi all'usanza che prevede che i vecchi vengano abbandonati a morire su una montagna sacra sicuramente non è una lettura facile e anche se comunque sembra molto più drammatica di quello che non è però è sicuramente una lettura da consigliare a chi insomma a lettori lettrici impavidi e coraggiosi se avete letto qualcuno di questi libri e volete discuterne con noi iscrivetevi al nostro gruppo facebook visitate il nostro sito oppure seguiteci su instagram trovate i link nella descrizione sotto se vi è piaciuto il video non dimenticate di lasciarci un like e di condividerlo con i vostri amici a presto e buone letture grazie